per oggi una rivisitazione i muffin gusto rama di napoli alla nutella vediamo con preparare una terrina uova zucchero e pizzico di sale lavorare il tutto con lo sbattitore elettrico aggiungere il burro fuso e adesso aggiungiamo i secchi setacciati cacao farina e lievito per dolci continuare a lavorare il tutto e successivamente aggiungiamo anche la cannella i chiodi di garofano e ancora nell'impasto aggiungiamo miele marmellata di arance continuare a lavorare il composto e poi aggiungiamo l'acqua o altrimenti del latte alla fine è la stessa cosa trasferite l'impasto nell'apposito stampo per muffin e adesso siamo pronti per la cottura a 180 gradi per circa 20 minuti facciamo raffreddare con l'apposito attrezzo create dei buchi farcite con abbondante nutella mi sono aiutata con la sac a poche che viene ancora meglio lassare con cioccolato fuso fondente e completate la preparazione con la granella di pistacchio come sapore sono identici alle rame di napoli provateli grazie a tutti grazie a tutti